l'isola della certosa è un'isola che ha una storia antica qui c'era una certosa uno dei più grandi d'italia l'utilizzo dei padri certosini si interrompe con con napoleone e viene destinata isola a uso appunto a scopo militare di cui siamo praticamente sulle bocche di porto l'accesso alla città era da questa parte quindi l'isola diventa un'isola di baluardo difensivo insieme al forte di sant'andrea il convento ha una triste fine cioè viene completamente smantellato per erigere le mura difensive dell'isola l'isola appunto diventa un'isola uso militare e quest'uso è protratto fino fino ai tempi moderni cioè più o meno fino agli anni 50 60 quando l'isola viene completamente abbandonata l'isola viene usata da prima come luogo dove depredare il più possibile e poi viene usata come discarica l'isola si trova intorno a metà degli anni 80 in una fase come dire di allarme cittadino per cui legambiente insieme a altri cittadini e comitati locali si mobilita per chiedere che l'isola che sta a due passi da venezia nel pieno della laguna nord vicino alla bocca di porto che ha 24 ettari di verde ormai come dire che ha preso sopravvento su tutta tutto l'edificato diventa a quel punto un bosco da recuperare l'isola della certosa che attualmente un'isola interna alla laguna di venezia nasce come lido in epoca romana era il lido che separava la laguna dal mare e questo è importante da sapere perché spiega perché dei suoli tendenzialmente sabbiosi di tutta l'isola una cosa molto caratteristica è la presenza rilevante di alberi anche alberi giganti come questo grande pepo bianco prostrati l'esempio straordinario che abbiamo visto del gelso gigantesco che c'è fusti originati siccome ceppaia probabilmente a seguito di un taglio di un fusto principale originario si sono sviluppati a mo' di fiore raggiungendo una dimensione che non ha dei simili dei gelsi da nessun'altra parte al mondo oltre che una forma assolutamente peculiare queste piante beneficiano di un microclima assolutamente unico dato da escursioni termiche mitigate un'umidità sempre diffusa soprattutto una luminosità diffusa che favorisce al massimo la fotosintesi da questo a crescimenti rapidissimi e forme anche di gigantismo grazie a tutti grazie a tutti